Clemente Mimù nella sua lunghissima attività giornalistica che prosegue con successo è stato anche un promotore della cultura e dei saperi altrui, la letteratura, i libri, il cinema, la musica, hanno trovato e trovano grande spazio nella sua attività di direttore, quindi non è soltanto lui stesso un autore di sapere, di informazione e di cultura, ma neanche un promotore, perché negli spazi che dirige con grande competenza ha dato spazio, da spazio e da spazio a tante persone che hanno potuto far conoscere attraverso le sue attività i loro prodotti culturali che hanno bisogno di tutela, soprattutto in una fase di saccheggio digitale dei contenuti autoriali che invece vanno salvaguardati e promosso.